Un provvedimento che fa discutere e che causa qualche disagio a viaggiatori, studenti e pendolari che hanno a che fare con la stazione di Alessandria e che però il Comune ha dovuto emettere per causa di forza maggiore, è quello che già a partire da oggi fino al 3 dicembre vieterà di parcheggiare intorno alla stazione ferroviaria di Alessandria. La decisione nasce a causa di interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento della linea ferroviaria Torino-Genova-Alessandria. Si è reso quindi necessario creare lo spazio per permettere la sosta degli autobus da turismo sostitutivi che effettuano il servizio per la linea ferroviaria Torino-Genova-Alessandria. Il Comune rende noto che sono state individuate nuove aree di sosta nei pressi della stazione ferroviaria, aree che garantiranno anche la sosta ai taxi per il servizio pubblico. Nella nota emessa da Palazzo Rosso è scritto che fino al 3 dicembre verranno adottati provvedimenti viabili finanziati alla tutela della circolazione veicolare e pendolare e alla prevenzione dell'eventuale congestionamento del traffico che si potrebbe creare nei pressi della stazione. Ad esempio sarà vietata la fermata con rimozione forzata da alcuni tratti delle seguenti vie, in spalto Borgoglio e piazzale Curiel, eccetto Pullman ed eccetto taxi. Altro provvedimento viabile che fa discutere è quello annunciato dal Comune di Alessandria che ha in pratica cancellato dal 1 gennaio del 2023 tutte le agevolazioni per le auto elettriche. In pratica non potranno girare nella ZTL e non potranno neanche parcheggiare in maniera gratuita ma dovranno pagare come tutte le altre. Davide Buzzilangi, capogruppo di Forza Italia, ha dichiarato provvedimento che non si capisce. Alessandria rischia di essere così l'unica città in cui non viene incentivato l'uso di auto elettriche. Il pensiero è condiviso anche da Vincenzo De Marte che ha attaccato il provvedimento emanato proprio ieri dalla giunta Bonante dall'assessore Serra. Dice che noi sinceramente non avremmo mai preso questa decisione.